Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara.Dietro il fascino dell'acclamata attrice turca Ande Ercel si nasconde una carriera piena di successi. La sua ascesa alla fama internazionale è arrivata con la commedia romantica L'amore è nell'aria, in cui ha condiviso lo schermo con il suo partner più ricordato, Karen Bursin, ma la sua carriera va molto oltre. Nata il 24 novembre 1993, Ande Ercel ha debuttato come attrice professionista nel 2013, in un episodio della serie Tatar Ramazzan. Un anno dopo, l'abbiamo vista in Calicusu e Aya Tagaci, ma prima di queste prime incursioni, il suo fascino e il suo talento avevano già attirato l'attenzione nel mondo della modella e della presentazione di programmi televisivi. Nonostante la preferenza dei suoi genitori per la medicina, l'ex di Karen Bursin ha seguito il suo amore per la recitazione e si è trasferita a Istanbul per studiare alla Mimar Sinan University of Fine Arts. Dopo i suoi primi passi nel 2013 e nel 2014, la sua carriera non ha smesso di crescere, accumulando 11 serie nella sua storia. Ande Ercel ha confessato il suo desiderio di proseguire gli studi universitari, ma la valanga di progetti professionali l'ha portata a rimandare quel progetto. Da Gunesin Kizlari a Love is a Nia con Kerem, i suoi successi si sono moltiplicati, raggiungendo più di 90 paesi. Attualmente, recita in una nuova fiction, Ili Yabanchi, insieme a Burak Deniz, trasmessa su Fox TV Turchia. Oltre alla sua carriera nel mondo delle serie televisive, Ande Ercel si è avventurato nel cinema con Mestias Kimiatun nel 2020. È stata premiata più volte, tra cui tre Alton Kelebeck Awards, per un totale di 12 premi nella sua eccezionale carriera. L'attrice ha un ricco curriculum che trascende la sua storia personale con Kerem Bursin.